pace e bene cari fratelli e sorelle bentrovati in quest'ultima domenica del tempo ordinario caratterizzata come festa di cristo re dell'universo incontriamo la celebre scena nota col nome di giudizio universale si tratta di un testo che conclude l'insegnamento pubblico di gesù e lo collega direttamente con il racconto della passione morte e risurrezione questo testo che ci viene proposto in occasione di questa solennità ci ricorda come la storia non sia in balia del caos c'è un re e signore dell'universo che guida e conduce la storia egli ora nella storia si rende presente nei sacramenti si rende incontrabile nel volto di ogni persona specie dei poveri e un giorno sarà giudice di ognuno di noi e dell'universo intero il signore gesù in questa piccola riflessione che intitoliamo la gravità dell'amore vi propongo due grandi punti innanzitutto vedremo quattro spunti che possiamo cogliere da questo testo quindi in una seconda parte vi offro una chiave di lettura che tiene conto anche del contesto dell'orizzonte escatologico per arricchire il senso che ci offre ecco anzitutto abbiamo in sé la scena del giudizio universale questa scena che rimanda alla fine dei tempi la prima cosa immediata che ci viene in mente che ci parla di un giudizio e ci ricorda dunque che la nostra vita non si conclude con un tutti promossi e via ma si conclude con l'incontro con il signore con il suo giudizio su ciascuno di noi e perché dio ci giudica perché ci ama e prende sul serio la nostra vita non è lo stesso scegliere il male o il bene cambia la qualità della nostra vita ora e per l'eternità i nostri atti potremmo dire hanno una eco eterna meditare su tutto ciò ci fa bene perché vedete questo testo non va preso in maniera semplicemente informativa cioè non ci vuol solo dire cosa dio farà dopo quasi che dovessimo avere noi i suoi criteri per metterci a giudicare meglio la gente o noi stessi ma è un testo con una finalità trasformativa vuol trasformare la nostra esistenza per renderla più conforme a cristo e ci aiuta anche mettendoci in guardia con un po di salutare timore il filosofo cristiano kirkegaard diceva l'aldilà è con esso il giudizio è diventato uno scherzo un'esigenza così incerta che ci si diverte perfino al pensiero che c'era un tempo in cui questa idea trasformava l'intera esistenza quindi punto primo questo testo ci ricorda che la nostra vita termina con il giudizio del signore ce ne offre i parametri affinché possiamo guardare dalla giusta prospettiva la nostra vita e rettificarne le priorità e la qualità secondo punto potremmo dire che questo testo ci dice che alla fine ciò che resta è l'amore solo l'amore crea disse san massimiliano colbe e solo l'amore resta ci ha detto san paolo la carità infatti non avrà mai fine cosa resterà dunque l'amore dato e ricevuto qual è il parametro fondamentale della vita l'amore e amare un verbo transitivo si parla di amare qualcuno in modo attivo fattivo concreto il testo di oggi ci parla in particolare di sei opere di misericordia potremmo dire di misericordia corporale tutte in successione se ci fate caso c'è una sequenzialità quasi ridondante perché perché qui non si parla di azioni sporadiche da compiere per acquietare la coscienza ma si parla di uno stile di vita volto al prendersi cura dell'altro in tutte le sue dimensioni ciò che appare evidente che il giudizio si opera su un metro comune che appunto l'attenzione la cura del prossimo che era comune anche all'interno del giudaismo un convento ebraico a deuteronomio 13 5 voi seguirete il signore vostro dio di rabbi cama barcanina dice può un uomo seguire veramente dio quando nello stesso libro è detto che il signore tuo dio è un fuoco che consuma ciò significa che si deve seguire la condotta di dio come dio ha vestito quelli che erano nudi adam ed eva vesti anche tu quelli che sono nudi come dio ha visitato gli ammalati abramo tu pure visita gli ammalati come dio ha consolato gli afflitti isacco consola anche tu gli afflitti come dio ha seppellito i morti mosè tu pure seppellisci i morti dunque potremmo dire che qui si parla di esplicitazioni concrete del precetto fondamentale dell'amore e vi ripeto non di semplici opere benefiche compiute senza spirito di benevolenza giusto per sentirsi a posto con la coscienza o quasi in modo da imbavagliare dio costringendolo a farci più grazie ma terzo passaggio abbiamo un salto di qualità qual è il salto di qualità e che gesù lega strettamente a sé gli uomini arrivando a identificarsi con loro quello che avete fatto o non avete fatto all'altro l'avete fatto o non lo avete fatto a me potremmo dire che nell'altro io posso toccare e curare la carne del cristo sofferente che storicamente proprio lì continua a rendersi presente allora si può ben capire perché madre teresa dopo aver lavato l'ennesimo povero lebroso esclamò colma di gioia oggi ho toccato la carne santissima di gesù e perciò diceva alle sue suore se saprete riconoscere gesù vivo e risorto è presente nel santissimo sacramento e lo riconoscerete presente nei poveri sarete delle contemplative in azione ecco qui abbiamo il grande salto di qualità nell'altro non sono chiamato solo a riconoscere il volto di un fratello ma il volto stesso di cristo e quarto e ultimo passaggio potremmo dire che quest'amore donato o meno è ciò su cui si gioca la nostra vita la qualità della nostra vita attuale perché è felice solo chi ama e anche ciò che sarà il nostro destino eterno perché sull'amore saremo giudicati tutto ciò si arricchisce di ulteriore senso se noi teniamo conto dell'intero contesto cosa che a volte nel commento di questo brano sfugge un po' cerchiamo di capire il secondo punto che vi propongo questo testo che cosa ci presenta il quadro del giudizio di tutta l'umanità ecco l'umanità su che cosa viene giudicata viene giudicata sulla qualità delle relazioni avute con l'altro più profondamente però si tratta della relazione che implicitamente queste persone hanno con cristo stesso e con il suo regno esplicitamente non ne avevano nessuna perché non erano suoi discepoli ma implicitamente l'hanno avuta e dove hanno vissuto questa relazione implicita con cristo nell'atteggiamento concreto che hanno avuto nei confronti degli altri potremmo dire in una relazione di giustizia vissuta con il loro prossimo qui abbiamo il re che amministra la giustizia e dove sta l'atto giusto che lui valuta in questi uomini sta nel trattare giustamente l'altro sta nel trattare con amore concreto l'altro trattare l'uomo che ha bisogno è una relazione in fondo di giustizia prima ancora che che di amore che si concretizza nelle opere a favore dell'altro nel fare il bene e anche nel voler bene all'altro qual è il paradosso per noi discepoli il paradosso su cui la parabola ci fa riflettere è che i pagani chi non lo sa serve cristo nei derelitti e nei poveri e noi che lo sappiamo e noi che lo sappiamo a volte manco serviamo i derelitti e i poveri altro che riconoscere nell'altro il volto di cristo basta pensare a quante chiacchiere vengono fatte da cristiani praticanti su temi quali l'assistenza ai bisognosi l'accoglienza degli immigrati e via dicendo quindi questa parabola che ci pone nella prospettiva dell'orizzonte scatologico viene a scuoterci un po perché perché se noi discepoli sappiamo che il signore tornerà e ci giudicherà e sappiamo che il signore è presente nel povero nel bisognoso tanto più dovremmo incontrarlo e servirlo lì mentre a volte chi non attende il signore e non sa neanche che si nasconde lì serve con più cura e con più premura di noi chiediamo allora la grazia che le parole di gesù si incidano profondamente nei nostri cuori l'avete fatto a me non l'avete fatto a me ci ricordano che dio è qui è vicino a me non è soltanto in me ma è nascosto anche nel fratello nella sorella accanto a me se prendiamo davvero sul serio le parole di gesù tutto si illumina noi possiamo davvero servire dio accarezzare dio assistere dio curare dio nel fratello o nella sorella che sono accanto a noi gandhi con sincera onestà un giorno dichiarò la chiesa cattolica conta tra i suoi figli migliaia e migliaia di persone che hanno consacrato tutta la loro vita per soccorrere i poveri e curare i lebrosi da quale fonte esce questo incredibile eroismo che si ripete di secolo in secolo ecco la fonte gesù egli ci ha lasciato come nuovo comandamento l'amore lasciarci amare innanzitutto amare lui amare gli altri amare lui negli altri in fondo il cristianesimo è tutto meravigliosamente qui che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti